Per lo storico cerchio Ifior, sugli altri piani di esistenza esiste la legge di gravità? Commento. Per lo storico cerchio Ifior, sul piano fisico la materia è molto pesante, è molto rigida, molto fissa ed è vincolata dalla legge di gravità. Ma quando vivremo consapevolmente sul piano astrale ci accorgeremo che la legge di gravità non funziona più, a meno che l'individuo non voglia sentirla, perché nel piano astrale la legge di gravità si trasforma in la legge del desiderio e dell'emozione che fissa l'individuo sulle situazioni che sta vivendo su quel piano. Per analogia, lo stesso discorso vale sul piano mentale in cui il pensiero sostituisce la forza di gravità e fissa la reazione del momento alla situazione che si vive nel piano mentale.